ciao ragazzi bentornati sul mio canale questo è un video spacchettamento della fabrelic andiamo a vedere insieme le clienti cosa hanno acquistato all'interno del pacco troviamo sempre questo qui che serve per non rovinare i prodotti durante il trasporto fabrelic ha l'abitudine di mandare i prodotti già nelle buste andiamo a vedere nella prima posta troviamo questi sacchettini con all'interno campioncini di profumo sia femminili che maschili questi quali ho voluti acquistare io per far sentire la profumazione dei profumi alle mie clienti prima di acquistare la bottiglia troviamo un altro sacchettino ci sta pure questo qui magari voglio aprire un sacchettino così voglio mostrare come questi sono i campioncini allora eccolo qua è di vetro quindi fate attenzione quando utilizzate sopra abbiamo il tappino di plastica abbiamo questo prodotto qui di 15 ml leggiamo insieme che cos'è questo qua è per i contorno occhi poi abbiamo questa matita con questo bellissimo pennellino vedete e poi due gel lubrificanti per rapporti confortevoli da 50 ml ne abbiamo due uguali devo dire che i prezzi sono veramente bassi di questi prodotti e poi sono prodotti di qualità andiamo a vedere anche nella seconda busta a fianco i prodotti più grandi comunque arrivano addirittura con questa parte di cartone e poi avvolto con questo scotch in modo tale da proteggere ulteriormente i prodotti qui abbiamo questo prodotto per lavare i nostri indumenti possiamo fare qui 26 lavaggi ed è un prodotto biologico ve lo voglio anche aprire così facciamo vedere anche all'interno come si presenta è un detersivo in polvere vedete veramente un ottimo prodotto ragazzi io spero che questo mini spacchettamento fabrelic vi sia piaciuto lasciate un like iscrivetevi al canale noi come sempre ci rivediamo in un prossimo video con tante altre novità sempre fabrelic e quindi